Ciao ragazze, ditemi i vostri nomi. Sara, Alessandra, Zada. Come è andata la vostra staffetta? Vi siete divertite? L'avete fatta bene? Sì, io spero di sì, spero di sì. Voi ragazzi siete tutte nuotatrici oppure è la prima volta che vi ci mettate in questo sport? E siamo agonisti. Io sono una nuotatrice. Nuotatrice. Di Padova, siete di Padova. E come avete saputo di questa iniziativa? Ne hanno parlato gli allenatori magari? Sì, ce ne hanno parlato gli allenatori. Ce ne hanno parlato gli allenatori. E che effetto vi fa partecipare ad un evento da Guinness? Sapete è vero che è un'iniziativa molto importante di beneficenza e che effetto vi fa partecipare ad un evento così importante per i bambini come voi? È bello anche perché è di beneficenza. È bello perché aiuti i bambini a crescere. È bello perché aiuti i bambini a crescere e le sue famiglie. Grazie mille. Ciao.